ciao a tutti sono Tedinati benvenuti su un altro video hanno appena concluso i pregiorni di Detroit Pro anche io sto aspettando un po' di video così mostro un video un po' più dicente per voi perché non ho guardato in live streaming eccetera però i primi due sono cosa abbiamo tutti anticipato Goodvideo e Martin Fitzwater praticamente io credo che Martin Fitzwater può vincere ecco perché Goodvideo ha quel fattore e lui è uno famoso su social media però io credo che le gambe davanti si può dare a Goodvideo però secondo me la parte sopra condizione diciamo Martin Fitzwater è sicuro è più condizionato di Goodvideo poi abbiamo la schiena la schiena veramente Martin è superare a Goodvideo Goodvideo manca un po' di punti deboli importanti scusami su schiena la cosa io vedo anche voi cosa state vedendo su questo video che mostro a voi adesso quindi dite una vostra cosa ne pensate perché io ho sempre avuto quello a cosa su Martin Fitzwater perché io ho sempre detto lui sembra uno molto 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 stato valutato però lui con condizione eccetera è impaccabile lui viene sempre con condizione io avevo quello paura lì per Goodvideo perché dicendo che noi sappiamo che Goodvideo non è tanto tanto condizionato si ha fatto bene su Arnold Classic Brasile però qua secondo me è un po' più condizionato però non abbastanza anche sulla schiena si vede molto che Martin è molto 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 più avanti di lui ancora anche Martin è un pro da un po' di tempo Goodvideo questo è il suo secondo pro show però è tutto possibile dobbiamo ancora vedere finale perché sai ognuno si migliora ancora di più per il finale però credo che per adesso credo che Martin Fitzwater sarà avanti a anche un'altra persona che mi ha un po' diluso perché non era sui primi due era Rodriguez perché io pensavo che Rodriguez non volevo dirglielo Rodriguez perché va vincere perché era uno se arriva bene con giusta condizione poteva vincere però anche qua da video che ho visto non tanto condizionato come dovrebbe determina vostra sono terminati ci vediamo se non sei ancora iscritto sul canale iscrivetevi sul canale così voi vedete i video sui primi due su finale stasera ci vediamo al prossimo video sono terminati iscrivetevi sul canale grazie